e la raga sono master zemon di questo nuovissimo video raga oggi video diverso rispetto al solito perché raga da una settimana a due settimane che vedo nei miseri privati due player veramente fortissimi talmente che so forti pensate che non so scegliere chi è il più forte quindi raga in questo video vi farò sfidare uno di uno e vedremo comunque chi è il più forte tra loro due ok per me iniziare il video mi raccomando raga se siete nel canale mi raccomando iscrizione la campanella fate tutti quanti mi raccomando la campanella attiva su tutte le notifiche ok almeno arriverà la notifica tutto quello che faccio video live tutto ok detto questa raga iniziamo il video e vediamo un po chi è il più forte ok raga eccoci qui la prima cosa da fare comunque iniziare a invitarvi perché se ne invitiamo come facciamo a farli sfidare intanto raga entra zotac vediamo un po ciao zotac mi senti sembra sei sei pronto sei pronto sei carico va vai ecco qui raga abbiamo invitato anche il signor carrier ciao carer mi senti ci sei ti sento ci sta perfetto carer anche arrivato chiaramente quest'uno più non lo fa vediamo un po che è più forte voi due e niente una cosa cosa devono fare persone guardano questo video mettere il codice alessandro il beo ma raga già sono preparato quindi deve iniziare mettiamo pronto e giochiamo ora che eccoci qui siamo in creativa cosa vuol dire fare box fight build fight box ok allora vi metto questa mappa apparente fighissima con me allora vediamo un po eccola qui va raga la mappa l'abbiamo messa allora posso entrare avete cambiato squadra avete fatto tutto ok entriamo raga vai iniziano raga affidare quanto volete arrivare 7 10 non so di voi va bene 7 5 va bene a raga eccoci qui inizia il primo fighting si arriva a 5 vediamo un po vince tra loro due vediamo vediamo zotac intanto raga che vuole piarli da lontano ma già fa bella bella questa tattica attenzione 37 parte di carrier sfida è molto bella questa perché sono tutti due forti però chissà chi sarà il più forte loro due lo scopriremo breve raga pesce non ce n'ha quindi ha solo shieldini e se prende hit qua attenzione raga primo fight vinto da carrier mamma mia gg dunque raga anche la map ricorda cod alessandro beo raga metto tutti quanti attaccatemi su instagram che vero e vostro in più mando anche l'amicizia e giocami insieme vediamo un po che combinano attenzione un po di edit la carrier 59 attenzione fa un po di edit 64 vince raga zotac qua deve giocare bene vediamo 48 e raga e raga chissà aghia come si fa i flopper che rimane con un shieldino e vince raga il secondo fight lo vince ancora carrier mamma mia chissà se zotac riuscirà a recuperare raga vediamo 100 attenzione raga al primo giocali tutti e due zotac vuole killarlo vediamo un po se riesce e riesce 2 a 1 raga attenzione può recuperare zotac diamo po che fa attenzione prende in it bella grossa comunque raga scrivete nei commenti secondo voi zotac con cosa gioca con mk ma settastiera o joystick comunque raga due a due attenzione vediamo ancora zotac aspettiamo 37 attenzione tira aghia 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 e ciao andiamo via un mongralla mongralla e gg per zotac raga che ha fatto un edit veramente fighissimo raga da 2 a 0 per care 32 per zotac gg gg per zotucu vediamo se cari e riesce a recuperare comunque tira una bella hit a zotac ok lo chiude di nuovo lo boxa però care se ne esce ok buono bravo vuole prendere il muro lo prende lo chiude attenzione eh zotac 100 attenzione raga zotac fa 100 col pompa eh non so se cari e c'ha cura eh chissà diamo via il muro però cari e riesce a uscire attenzione 108 di nuova raga è niente cari e ruccite zotac raga di nuovo 33 sono curioso di vedere chi il vincitore vai partito diamo un po raga 32 ti prende il muro attenzione cari e fan è differente fighissimo che sempre questa tattica di editare altre il muro ci sta o raga usano soltanto questa tattica uno di dare un muro e uno di dare un altro però comunque fanno bene c'è almeno se edita un muro così non riuscite di prendere il vediamo un po agia è tutto a cui dovrebbe riusciarlo infatti lo puscia vediamo se vediamo se riuscirà attenzione 134 si va dunque eeeeh niente questa parte la taglio dunque ragano tutti i due camperati e cari raga 4 a 3 da 3 a 2 4 a 3 po stessa cosa di zotac da 2 a 0 3 a 2 cari da 3 a 2 4 a 3 g per cari ma questo qui potrebbe essere l'ultimo round per cari perché comunque sta a 4 se vince un altro ha vinto quindi chissà raga questo è il round più figo di tutti secondo me perché zotac deve stare attento perché se perde ha vinto cari quindi vediamo un po come sarà gioca zotac 108 vincerà carer o zotac vediamo ok attenzione carer fa 85 col pompa carer a cure zotac non lo so per me non ha più cure raga perché se non lo pusciava sicuro attenzione carer 10 di maz affiude maz carer affiude maz raga un attimo maz vediamo quindi da un hit lo volevo giudare 43 ok buono raga zotac sta per da di un hit ma si è coperto subito vediamo uuuue zotac recupera raga 4 a 4 si arriva a 6 oggi qui con il nono round che vediamo che convino che vediamo se pareggiano ora non si sta raga tutto da scoprire mette la scala scende sotto cari perché bella giocata vediamo 100 e vince zotac 5 a 4 per zotac eh qua zotac raga potrebbe vincere se gli scappa un 200 a zotac vediamo 100 ecco scommetto che lo puscia vediamo 55 è white è white raga deve giocarsi la cari e niente e niente raga round 10 di 100 6 a 4 vince zotac gg e niente raga questa sfida si conclude qui gg per zotac vince vuol dire qualcosa zotac che carier è veramente forte che comunque c'è stata una sfida che comunque ce l'ho dovuta un po' su da infatti si comunque è stata una bella sfida facciamo una cosa allora quanti like deve fare questo video facciamo 100 like se ci sfidiamo in realistic allora raga cari ha detto se questo video arriva a 100 mi piace si sfidano o in realistic o in build fight raga arriviamoci perché veramente voglio vedere chi vince è stata una bella sfida ci vediamo un prossimo video e niente ciao zotac ciao carier niente raga questo è il video spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto raga arriviamo a 600 mi piace se ci riusciamo almeno si sfidano o in realistic o in build fight comunque raga sarà anche lì una bella sfida quindi se riusciamo arriviamoci in più fatemi sapere nei commenti da dove gioca secondo me raga carier e zotac da pad da mk scrivetemi nei commenti detto questo raga ci vediamo al prossimo video alla prossima live e niente ciao a tutti ci vediamo a svegliare ciao